Vivi un momento magico alla scoperta del cinema. Tutti i più grandi titoli ti aspettano al Multisala Le Giraffe di Paderno Dugnano. Grandi film, ottimo cibo e super divertimento nella nostra sala giochi G-Games. Siamo raggiungibili dall'uscita numero 2 della Milano Meda e dallo svincolo numero 12 Cormano Bollate della tangenziale Nord. Multisala Le Giraffe. Il nostro obiettivo è il tuo divertimento. Legiraffe.it Da noi i film iniziano in orario, perciò... Comincia lo spettacolo!